ora prima di tutto ti chiedo però penso anche di conoscere le risposte che atmosfera c'era nello spogliatoio a fine partita sicuramente siamo deluse dal risultato di oggi è stata una partita decisa probabilmente dagli episodi comunque credo che dobbiamo essere orgogliosi del percorso che finora sette giorni fa abbiamo praticamente stridolato il corte franca nel primo tempo con penso i migliori 45 minuti della stagione che cosa ci ha impedito di secondo te di di fare lo stesso oggi questo non lo so partite sono sempre partita se l'abbiamo visto che questo campionato non ci sono partite scontate quindi purtroppo non c'è riuscita a replicare il primo tempo di corte franca ecco secondo te secondo te che cosa non è andato oggi ma una serie di cose quindi probabilmente c'è da rivedere la partita analizzarla ecco abbiamo giocato praticamente solo noi sono parte ha deciso degli episodi e probabilmente dobbiamo essere più ciniche in certe circostanze ecco adesso comunque c'è un'altra partita l'ultima di campionato in casa quindi per per finire al meglio cerchiamo di come dire onorare il campionato e sicuramente noi dobbiamo scendere in campo oltre che per onorare il campionato che abbiamo fatto soprattutto per la maglia che indossiamo che viene prima di ognuna di noi quindi sicuramente domenica prossima in casa nostra quello sarà sicuramente l'obiettivo Grazie 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 Grazie